Mi chiamo Luca Barcellona e faccio il calligrafo e il designer. Ho provato a fare il grafico, ho provato varie manifestazioni nel campo delle lettere, la calligrafia era quella che mi veniva meglio. Quella che mi piace di più è la gratificazione che deriva dal costruire un lavoro e i risultati che ti tornano a livello professionale. La cosa che mi piace di meno quando vado in giro per insegnare è stare lontano troppo tempo dalla mia famiglia. Sicuramente i calligrafi del passato, perché la calligrafia è una cosa che va avanti per tradizione e insegnamento. Le insegne, soprattutto quelle vecchie, ma anche quelle nuove brutte, perché mi ricordano cosa non devo fare. Posso dirvi tre generi preferiti. Uno è il jazz, il secondo è l'exotica e il terzo è l'ipotere.